Ciao a tutti, mi raccomando, prima di iniziare questo buonissimo video, iscriviti al canale, attivando la campanella di notifiche se anche te vuoi vincere le skin e pass battaglia. Vuoi sapere quando è uscita la nuovissima skin di Lebron James all'interno di Fortnite, quando verrà resa disponibile? Molto semplice, a punto di vista che proprio questa skin di Lebron James, che è stata leakata qualche giorno fa, uscirà appunto all'interno del negozio oggetti. Questa skin contiene appunto la unica skin di Lebron James con degli stili aggiuntivi con loro regolabile, che arriveranno appunto tutti con le Nike Lebron 19, ovvero le scarpe di questo gestista americano. Appunto, oltre a queste scarpe, come ben sapete, anche possiedono un piccone e dei dorsi decorativi. Infatti questa skin uscirà esattamente il 14 luglio, quindi esattamente stasera alle ore 2-00 potremo vederla all'interno del negozio oggetti di Fortnite. Quindi manca ancora pochissimo per attenzione di questa nuovissima skin all'interno di Fortnite. Quindi per concludere il video, anche a te ti invito a lasciare un mi piace, iscriviti al canale con i video di questo video con tutti quanti i tuoi amici per farlo sapere anche allora quando uscirà questa skin. Detto questo, ci vediamo alla prossima.